Sette giorni di prognosi dopo una violenta testata ricevuta da un detenuto. Così si è conclusa la giornata di lavoro di un agente di polizia penitenziaria in servizio presso il carcere di Vigevano. Lo riferisce l'Unione e sindacati di polizia penitenziaria, secondo cui fatti simili si susseguono anche per la mancata osservanza delle circolari ministeriali all'interno delle carceri lombarde. Per esempio la mancata o solo parziale copertura dei ruoli sanitari, come quelli dei medici che dovrebbero essere presenti 24 ore su 24, o di figure di supporto psicologico e di mediazione culturale. Ancora un'aggressione, vittima un agente di polizia penitenziaria in servizio presso la solita, come dire, ormai abituata e ci ha abituato a queste tristi notizie, casa di repulsione di Vigevano. Ormai è proprio il teatro delle aggressioni e degli eventi critici. I motivi non sono noti, le dinamiche non sono note, quel che conta è che chi commetta violenza deve essere adeguatamente redarguito e l'amministrazione dovrebbe far sentire per l'appunto la propria determinazione, come più volte lo abbiamo sollecitato. La polizia penitenziaria viene quotidianamente aggredita, le circolari non contano nulla perché fino a quando sono solo scritte ma non applicate evidentemente non contano nulla. Noi auspichiamo che con l'insediamento del nuovo governo qualcosa finalmente si possa muovere. Grazie. 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 Grazie.